E' stato fissato il processo per Antonio Di Stazio, la ex guardia giurata della Securpol di Arezzo, originario della campagna, che era a bordo del portavalori svuotato l'11 luglio scorso di Trovata Baglialpino, un colpo da oltre 4 milioni di euro. L'uomo sparì e riapparve dopo una settimana quando fu arrestato. E' stato portato prima in cella ad Arezzo, poi a Perugia, a sei mesi dai fatti Di Stazio non ha ancora raccontato la propria verità. La clamorosa sparizione avvenne nel tardo pomeriggio. Di Stazio, assieme a un altro vigilante della Securpol, stava facendo un giro tra le aziende orafe del distretto Aretino. Il collega scese per operazioni di routine davanti a una ditta di Baglialpino. Quando tornò, il furgone e Di Stazio erano spariti. Il portavalori svuotato del contenuto venne ritrovato poco più tardi in una zona isolata vicino alla stazione di servizio della 1 di Baglialpino Ovest. Il vigilante, sessantenne, era scomparso. Riapparve poi una settimana più tardi a Lucca. Disse che si era preso una vacanza, troppo stress. Del loro non fece parola. Il 2 marzo in tribunale ad Arezzo si terrà la premodienza. Di Stazio è difeso dagli avvocati Daniela Paccoi e Marco Treggi.